Fresca di nomina il nuovo Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli riceve subito una lettera firmata da 20 sindaci della Valle del Tevere e del Savio. La lettera è per chiedere la convocazione senza induge con particolare urgenza di un tavolo dal Ministero alla presenza di tutti gli enti interessati per sollecitare in modo concreto e urgentissimo ad ANAS l'immediato avvio del cantiere per la riapertura della vecchia Tiberina Trebis nel più breve tempo possibile per adottare tutte le particolarità necessarie a riaprire totalmente il viadotto Puleto al traffico pesante. I sindaci hanno dunque voluto immediatamente sottoporre all'attenzione del nuovo Ministro il dossier aperto in occasione della chiusura del viadotto Puleto sulla E45. In questa lettera richiamiamo e riproponiamo a lui, a lei, anzi la nuova Ministra le nostre necessità, quello di dare corso a quanto promesso già in passato che erano tavoli di incontro con le realtà locali per divenire una soluzione di questa vicenda. Sulla E45 chiediamo di velocizzare quanto più possibile tutti i cantieri previsti che sono tanti. Questi cantieri, soprattutto l'ultimo che partirà, che è sul Tevere 4, incideranno anche sulla viabilità secondaria perché dovrà essere chiusa la carreggiata in alcuni momenti e quindi rinasce e viene riproposto con estrema ugenza un intervento sulla vecchia tiberina 3 bis che ricordo abbandonata da tanti anni e non più utilizzata.